Lucarelli versione Freud scrive il messaggero per aprire la pagina sportiva per una ternana che ha bisogno dello psicologo. Questo è un po' il messaggio lanciato dal quotidiano psicologo che è il suo allenatore Cristiano Lucarelli. In vista della ripartenza dopo la pausa per la nazionale i rossoverdi vengono costantemente monitorati dal tecnico anche sotto l'aspetto psicologico. Intanto per il tennis la ternana Francesca Galli è campionessa italiana under 15, davvero grandi performance e grande ascesa per quanto riguarda la giovanissima Francesca. Un guaio tecnico invece ferma la corsa di Danilo Petrucci, il centauro ternano al Gran Premio di Magno Curi in Francia, valido come non a prova del campionato mondiale della Superbike. È stato frenato proprio da alcuni problemi tecnici in gara 2. Tornando al calcio Serie C, Grifo pari in rimonta col Pescara. Fucede tutto nella ripresa con Cancellieri che su punizione, anche complice la carambola con il palo e il portiere del Pescara Pizzari riesce a pareggiare la rete pescarese di Aloy. Chance anche per gli annoni, palo di Bartolomei. Alla fine un buon punto per il Perugia. Grandi parate del portiere Adamonis, mentre rimandato il centrocampista Acella per quanto riguarda le pagelle del messaggero. Serve lavorare molto, ma c'era un rigore per noi, ha detto nel post-gara il tecnico del Perugia Francesco Baldini. Perugia che ha il secondo pareggio in due partite, dunque due punti in classifica dopo le prime due giornate del girono B di C. sentiamo allora proprio il commento post-gara da parte del tecnico bianco-rosso Baldini, vedendo anche le immagini che hanno contraddistinto Perugia-Pescara. Se ci mettiamo a ragionare sugli episodi di questa partita tra noi e il Pescara, stiamo qui fino a domani perché di episodi ce ne sono stati tanti e il calcio è bello perché quando è così. Quindi il rammarico è aver preso gol nel momento in cui secondo me c'era un calcio di rigore per noi. Però, ripeto, stare a discutere degli episodi di una partita del genere è difficile. Ho rimproverato tra virgolette ragazzi il non equilibrio dopo aver preso gol. Noi capiterà altre volte che passiamo in svantaggio, ma non dobbiamo prendere il secondo. E noi in tante situazioni dopo aver preso gol ci siamo messi nelle situazioni di prendere il secondo. E questo non deve avvenire perché col nostro modo di giocare, è vero che sembra un paradosso in questo momento perché abbiamo fatto un gol in due partite, però col nostro modo di giocare noi gol lo possiamo trovare anche all'ultimo minuto in qualsiasi momento. Quindi bisogna stare sul pezzo, non deve cambiare nessun tipo di atteggiamento. Al limite cambio io qualcosa dalla panchina, ma nel loro modo di interpretare la partita non deve cambiare nulla. Detto questo, naturalmente apprezzo la voglia assoluta di pareggiare la partita che hanno messo i ragazzi in campo. E questo è innegabile e bisogna ripartire da lì. Bisogna ripartire da lì. Una squadra in difficoltà, e l'ho detto ai ragazzi e uso la stessa parola, una squadra senza palle avrebbe preso il secondo e il terzo. Quindi ripartiamo da questo, si aspetta una partita bellissima da giocare a Ferrara contro la spalla. E io non vedo l'ora di rivedere questi ragazzi in campo. Le scelte che abbiamo fatto insieme con la società sono quelle di aver preso giocatori determinati, giocatori che hanno voglia, magari non il nome risonante o il 35-36enne di grandissima esperienza, però abbiamo preso giocatori che ero convinto e sono convinto che ci daranno delle soddisfazioni. E quelli che sono rimasti, sono rimasti... Ora domani rinseriremo qua Anfurlan e Santoro perché si sono sempre comportati bene, ma quelli che sono rimasti, sono rimasti con la consapevolezza di quello che gli aspettava. Si sta creando un'alchimia giusta, c'è tanto da lavorare, però si parte da una base solida di uomini con la U maiuscola. E dal gol di Cancellieri restiamo in Serie C, restiamo a squadra e Umbro ovviamente, per invece chi la prima vittoria l'ha ottenuta in questo campionato, Serie C-Girone B, ovvero il Gubbio che peraltro ha anche il suo bomber, come scrive il messaggero. Parliamo di Alessandro Galeandro, arrivato con un percorso a ostacoli, destinato all'Ecco con l'accordo di girarlo ai rosso-blu solo in caso di B, aspetto che poi è puntualmente avvenuto. Galeandro ha deciso il match con l'Ancona, ci speravo, qui mi trovo bene, dichiara l'attaccante ex Albino Leffe, Gubbio che ha ribaltato la gara del Del Conero in davvero pochi secondi dopo lo svantaggio a inizio secondo tempo e allora riviviamo proprio il match in terra marchigiana nel servizio. Seconda giornata del Girone BDC ed è Ancona Gubbio in un Del Conero da quasi 4.700 spettatori con 215 tifosi arrivati dall'Umbria. Donadel opta per il 3-4-1-2 con Paolucci alle spalle di Cioffi e Spagnoli. Stesso modulo per Braglia con Spina fulla tre quarti a supporto di Galeandro e Udo, out l'ex di Massimo per un problema muscolare. Al secondo minuto dagli sviluppi di una punizione calciata da Cioffi, Gatto controlla limite calcia di destro. Una doppia deviazione costringe Vettorella al provvidenziale Tuffo che concede solo corner ai Dorici. 25esimo minuto, Spina saccheggia Pallacella e smarca Udo. Timido destro stoppato da Marenco, alimenta Mercati ancora Spina sul vertice sinistro dell'aria. Pallone radente ancora per Udo che da due passi liscia completamente la sfera graziando Perucchini. Al trentesimo ripartenza Ancona con Cioffi che avanza sulla sinistra e cerchi il tiro a giro. Pallone di non molto a lato. Finisce così a reti bianchi la prima frazione di gioco ma nella ripresa dopo tre minuti la partita cambia di colpo. Da lancio lungo dopo un doppio duello aereo Cioffi conquista una seconda palla servendo Spagnoli. Gran tocco accentuare per Paolucci che con un destro radente trafigge Vettorella sul secondo palo per il rigore in movimento che vale l'1-0 Ancona. Prima rete in campionato per Paolucci, gelido nel finalizzare la doppia rifinitura del duo d'attacco d'Orico. Passano due minuti e da rimessa laterale rosso-blu Udo tocca a Frey che lascia sul posto Martina. Penetrenare arriva sul fonde e mette in mezzo un tiro al cross sul primo palo che il goffo intervento con i piedi di Perucchini fa carambolare in porta. Immediato pareggio del Gubbio con l'evidente complicità del portiere bianco-rosso ma notevole la giocata del laterale destro ex Carrarese. Al 55esimo a provarci e Bulevardi dalla distanza. Perucchini in tuffo mette in corner. 58esimo minuto. Dagli sviluppi di un piazzato la palla si alza a campanile e spina al volo la domestica servendo sulla destra Bulevardi. Cross regale a centro area dove Galeandro prende il tempo all'intera retroguardia avversaria e con una chirurgica torsione aerea pesca l'angolo lontano rendendo vano il tuffo di Perucchini. Ribalta la partita il Gubbio chiosando dieci minuti di rara intensità per la prima realizzazione in rosso-blu alla prima da titolare dell'attaccante ex Albino Leffe che va ad esultare sotto la parte di stadio dedicata ai supporters e Ugubini. Braglia inserisce Morelli, Casolare e Rosaia fuori Frey, Mercati Galeandro poi dentro anche Chierico per Bulevardi e Di Marco per Pirrello. Cioffi da punizione dal limite viene fermato dalla barriera poi Barnaba a calcio alle stelle. In pieno recupero Di Marco pesca Rosaia in aria interno destro che non inquadra la porta. I rosso-blu non rischiano più nulla ed espugnano il Del Conero per la terza volta negli ultimi tre anni. Quattro punti in classifica dopo due giornate per l'undici di Braglia che sabato tornerà al Barbetti ore 18.30 per sfidare la Fermana. E parleremo di Ancona-Gubbio, Gubbio-Fermana e tutto ciò di cui si può parlare per quanto riguarda il giro Nebbi di Serie C con ovviamente servizi e collegamenti, approfondimenti con ospiti studio e ci sarà anche il capitano del Gubbio Andrea Signorini. Stasera ore 20.30 fuori gioco su TRG. Chiaramente il salotto sportivo del lunedì sera per quanto riguarda la nostra emittente nello switch che poi faremo con Umbra TV che dalle 21.30 invece partirà con fuoricampo per quanto riguarda aspetti legati principalmente al Perugia Calcio. Questo dunque per quanto concerne anche la serata sportiva ma restiamo in ambito Gubbio per sentire anche la disamina post-gara di mister Piero Braglia. Oggi sotto l'aspetto dell'atteggiamento la squadra ha fatto una buona gara ha fatto anche quello che gli ha concesso la cona. Non è che noi giochiamo adesso lì, ci sono anche gli altri. Però io penso che abbiamo fatto una partita buona perciò dobbiamo essere contenti anche dei ragazzi che sono entrati, che hanno giocato. Ci è andata anche bene, abbiamo preso il gombo, un momento di difficoltà al nostro e hai fatto subito il pari. Da andare sotto e avere paura di pigliare il secondo ti sei trovato subito sulla parità con un morale alto, con la voglia di ribaltarla. A quel punto sono situazioni, sono momenti, un lato una gara. Ci è andata bene a noi, andrà meglio ancora la prossima. E' un anno che sono qui faccio sempre le solite cose, non mi cambia niente a me. Cioè io faccio quello che vedo e se non mi piace lo cambio, me ne frega niente. Per me sono numeri i moduli. Poi a volte vado bene, a volte faccio male. Non è che tutte le partite le riesco anche a azzeccare, a volte sbaglio. E nemmeno poche volte, però cerchiamo di far del nostro meglio, cerchiamo di far crescere i ragazzi che abbiamo. Gli schemi, io una volta ci ho fatto un anno, quando credevo davvero che con gli schemi le situazioni si vicesse le partite, in un anno ci ho fatto un gol. Lo fece Biancolino, allenavo il chiede. Pensate, gli schemi, le cose che facciamo servivano a dare organizzazione, poi contavamo a tante ragazze. E parleremo anche della tarassia a moduli e schemi di mister Braglia, con tanto di corsi e ricorsi storici che ha narrato l'allenatore Rosso Blu stasera 20.30 a fuorigioco su TRG. Andando nei dilettanti, serie di prima giornata, Orvietana, partenza falsa, vince l'Alto Pascio 2-0 contro la formazione di Fiorucci. Mentre il Trestina invece fa il suo esordio con il sorriso 3-1 sul Ponzacco in gol. Anche Di Nolfo qui in foto per i bianconeri. Andando in eccellenza, anche qui prima giornata, Narnese, tutto in un attimo, botte risposta nel giro di pochi minuti, tre patoni di casa e il Pierantonio Nepromosso, che protesta anche per un rigore negato. Rete di Salis, che porta avanti proprio il Pierantonio, poi arriva la rete di Colangelo, per un pari che scontenta tutti, scrive proprio il messaggero in foto. L'ex capitano della Ternana Defendi da quest'anno in stanza alla Narnese. Terni FC, esordio Amaro, in casa passa il Castione del Lago per 1-0. Spoleto, la prima ed aprivi, l'Atletico BMG invece parte col botto per quanto riguarda gli altri risultati, da sottolineare anche la vittoria arrivata al fotofinish del Branca con il Tavernelle. Mentre Città di Castello vince 1-0 contro Olimpia Tirus, grazie al gol di Valori. E Urbanelli spaventa la CF Foligno, poi Kribe, che trova il pari, ma era passato in vantaggio il Ponte Valleceppi con la rete dell'ex folignate Luca Urbanelli. Questo per quanto riguarda dunque anche l'eccellenza. Cambiando disciplina, passando al volley, la Sir prende tempo decisivi, i baby. Prosegue a ranghi ridotti, la preparazione dei block devils, a ranghi ridotti perché chiaramente in tantissimi sono ancora impegnati con le nazionali. Risulta decisivo l'apporto del settore giovanile in questa fase. Sorpreso in positivo dal gruppo, mi piace l'atteggiamento dei giocatori più esperti, ha dichiarato il vice allenatore Giaccardi. Ruzzolone, Umbria top, rispettata la tradizione del campionato italiano che si è svolto a Soriano, in terra viterbese, con Umbria protagonista. Tra Todi e Foligno il pari piace nel girone B di promozione, finisce 1-1. Per il basket invece si parla di Virtus Assisi che si prepara e scalda i motori in vista del prossimo campionato di serie C unica dopo la riforma dei gironi. Jacopo Anastasi tra i protagonisti per la formazione Assisiate. Mentre nel tennis Felici si ferma solo in finale agli US Open per quanto riguarda tale manifestazione che ha visto l'atleta della tennis training superare diverse fasi con grande bravura e poi fermarsi solo alla finalissima. Davvero grande escalation per Francesco Felici. Questo dunque per quanto riguarda il messaggero andiamo anche al Corriere con anche qui la Ternane in primo piano, Fere abbonamenti al top. La tifosera ha risposto alla chiamata del presidente Guida qui in foto assieme alla prima maglia rosso-verde. Quasi 2.000 le tessere, non accadeva dalla stagione 13-14 segno di vicinanza a squadra e nuova proprietà. Intanto Superlega, Bino Rizzuto, Dixit per la prima volta non è la Sir favorita. Parla proprio il direttore generale bianconero, Trento in prima fila poi Piacenza ma è chiaro che noi partiamo per vincere. Leon sarà il suo anno, dichiara Rizzuto. Palabarto un bello ma va migliorato in alcuni settori. Questo è il pensiero da parte del direttore generale della Sir Perugia. Croce Delizia, Grifo è pari con il Pescara. Tante occasioni da entrambe le parti. Nelle finali cancellieri Salvi Biancorossi regala un punto proprio al Perugia. Cade tutto nella ripresa. In tribuna presente tra gli altri anche Alessandra Mussolini che è mamma di Floriani, calciatore del Pescara. Braglia sul blitz del Gubb. Abbiamo letto bene la gara. Il tecnico dopo il 2-1 di Ancona. Gli under. Alcuni sono timidi. Ma facevo gli stessi discorsi per Arena e Di Stefano che oggi giocano in Serie B rispettivamente con Pisa e Lecco. L'arbitro era un metro. Ce n'era uno su Galeandro. Per quanto riguarda il rigore è chiesto dai Dorici. Questo il pensiero di Braglia che reclama a sua volta un calcio di rigore. Anche il presidente notario applaude i suoi giocatori. Ma bisogna restare umili. Questo dunque per quanto riguarda il Gubbio. Ancora per invece la Serie D. L'Orvietana non tira mai e vince l'Alto Pascio 2-0 alla prima giornata di campionato. Ci hanno condannato gli episodi, dichiara a fine partita il tecnico dell'Orvietana Silvano Fiorucci recriminando anche per un rigore non concesso. Trestina ha una partenza sprint in vantaggio grazie a un autogol riequilibrato da padrone di casa. Poi in gol Di Nolfo e Farneti per il 3-1 in trasferta da Corsaro del Trestina sul terreno del Ponzacco. Nel secondo tempo ho visto la squadra che volevo, ha detto a fine gara Mr. Ciampelli. Sansepolcro inizia da incubo, 4 sberle in Maremma con Ferri Marini. L'unico a rendersi pericoloso per i biturgenzi ma senza far male il grosseto di Mr. Bonuccelli. Vince 4-0 con doppietta di Masierli. In questo girone al minimo errore si viene punito, ha detto a fine partita l'allenatore del Sansepolcro Bricca. Un città di Castello di valori, il gioco di parole per colui che ha portato la vittoria con il suo gol. Il città di Castello che batte 1-0 Olimpia Tirus con anche cartellino rosso al 47esimo a Lucidi per proteste. Vince così la formazione di Armin Lei all'esordi in campionato. Calistroni entra e rovina la domenica dell'Ellera, vince 2-1 la Nestor che non stecchi il debutto al Checcarini dopo il vantaggio iniziale di Mancinelli per quanto riguarda la formazione dell'Ellera. Andiamo quindi ancora all'eccellenza, ACF Foligno un punto di partenza, finisce 1-1 con il Ponte Valleceppi che passa in vantaggio con Urbanelli, poi Kribek rislisce la parità e nel fin di Cato, altro ex gubbio come Kribek, si divora la palla del sorpasso. Keblitz del Castione del Lago, la matricola Terni FC è al tappeto, la rete di Indiaie su calcio di rigore e il Branca come detto che batte 2-1 il Tavernelle, Mangiaratti è un centometrista, scatto al novantatresimo e il Branca è in delirio. L'Apazio vola e pare un rigore a Cacciamano che poi comunque segna il gol del vantaggio per il Tavernelle, Fastellini all'esordio in maglia Branca in campionato subito in gol per l'1-1 e come detto in pieno recupero la rete decisiva firmata da Mangiaratti per il Branca che così riesce a battere il Tavernelle 2-1 all'esordio. Atletico BMG di forza, lo Spoleto non regge, Sciacca e Canavese battono nella ripresa l'undici di Raggi mentre il grande ex Gesuele si becca con il pubblico e viene espulso, finisce 2-0 comunque per la formazione di Ciccone. 1-1 invece come abbiamo visto tra Narnese e Piero Antonio, Angelana e Lama non si superano ma al Micaghelli tante emozioni, finisce 0-0, penalti richiesto dai giallorossi per un intervento dubbio su Colombi. Promozione girone A, Virtus esce la X al debutto, finisce 1-1 tra Virtus San Giustino e Castel del Piano. Il Montone invece al 92esimo e Spugna, il campo del Ventinella, finisce 3-2 per la squadra di Missaglia. 2-1 invece del Calzolaro sul Rifo Sigillo che era passato in vantaggio con la solita rete del pistolero Marco Gaggiotti. Quindi 2-2 invece a Pistrino tra Selcinardi e Marra San Feliciano. La nuova Alba che supera 3-0 Settevalli Pila. 2-0 del Santa Sabina invece sul Padule San Marco che inizia con una sconfitta il suo campionato quest'anno. Mentre la Pieveese espugna 2-0 il campo del Piccione. 1-1 invece nell'anticipo di sabato tra Pietralunghese e Ponte Vecchio. Promozione girone B, il Todi scappa, poi per Rigolle il Foligno e Salvo finisce 1-1 tra Todi e Foligno. Ancora il San Gemini espugna 2-0 il campo della Real Virtus. Il Guardia batte 1-0 Clitunno. Mentre 3-2 del Bastia sul Cerqueto partita pirotecnica. Così come 2-0 dell'MC 98 sulla Merina. 1-1 giocata sabato tra Visfoligno e Bevagna. Ancora 1-1 tra Ducato e Campitello. Invece il San Venanzo batte 2-1 il Cannara. Poi il punto anche su prima categoria e tutti gli altri campionati. Per quanto riguarda sempre il calcio regionale, sempre sulle colonne del Corriere dell'Umbria. Che anche qui vedete celebra a dovere Francesco Felici. Sogno slam sfiorato per quanto riguarda tennis in carrozzina. Il giovane ha comunque ricevuto il premio Fair Play come atleta esemplare. Il 18enne ha perso in finale agli US Open Junior contro il britannico World. Per quanto riguarda la finalissima sui campi di Flushing Middles. Felici ha perso solo la finale degli US Open. Qui in foto anche insieme alla maestra Valeria Piccioli. Per quanto riguarda l'atleta della tennis training. Davvero grande la sua performance. Podismo corre in centro nel segno dei big Ridolfi e Giorgi. Erano in trecento a Perugia per il quattordicesimo Memorial Spagnoli. Mentre volle all'oratorio Don Bosco di Gubbi un nuovo staff tecnico. Siamo orgogliosi dichiari il presidente del Sodalizio e Gubbino Mauro Vernigi. Mentre per l'atletica Ribigini campionessa italiana dei 10.000. Super Laura vince tra gli juniores. Fichi terzo tra gli allievi. Record nei 400 invece per Tardioli. Volle a due femminile. Si Perugia buona la prima. Test convincente per Bartoccini Fortinfissi contro San Giovanni Marignano in vista del prossimo campionato di serie A2. Coach Giovi è soddisfatto dopo l'amichevole ma c'è ancora tanto da lavorare. Bartoccini Fortinfissi riduce dalla retrocessione dalla prima serie nazionale femminile. Riparte dunque per 1-2 da protagonista subito a segno nell'amichevole con Consolini Volley. Festa Diomandè e Cardarelli a Narni tornando al podismo esploat al trofeo Gole del Nera rispettivamente tra uomini e donne per Fabiola Caldarelli e per Jean-Marc Diomandè. Mentre a Gubbio, Gubbio Mocaiana da urlo con Friggi al 71esimo GP Madonna delle Grazie per quanto concerne dunque i portacolori della formazione del gruppo sportivo Eugubino. Questo dunque per quanto concerne lo sport. MotoGP a Misano, circuito ricordo di proprietà Eugubina, Santa Monica S.p.A. Martin batte Bez e Pecco. Lo spagnolo trionfa davanti a Riminese Bezzecchi. Bagnaia dolorante ottiene comunque il terzo posto. Grande davvero gara per il campione in carica. In classifica generale comanda sempre il torinese Bagnaia più 36 sul secondo in classifica. Questo dunque per quanto riguarda anche il GP di Misano che possiamo ancora, a breve rivedremo insieme anche sulle pagine del Quest. Inserto della Nazione che però parte con il Grifo in rimonta. Riprosi il Pescara. La magia di Cancellieri vale il pari. Subito in campo Santore e Juan tornano in gruppo per quanto riguarda l'immediata ripresa del Grifo. Anche le Pagella, Damonis il portiere super. Bene Bartolomei in mezzo al campo. Ma anche Lisi e Seghetti per il Perugia. Ternana settembre per voltare pagina. Ora l'obiettivo è rilanciarsi in classifica. Mentre le Ferelle vincono 5-0 sul campo del Genoa per quanto riguarda la Coppa Italia Femminile. Tornando alla Serie C il Gubbio si gode la prima vittoria. Ha disputato una grande partita. Grande soddisfazione di Mister Braglia dopo la vittoria con l'Ancona. Sesto successo di fila sul campo dell'Ancona e il terzo negli ultimi tre anni per il Gubbio. Intanto torna anche su Umbra TV alle ore 21 per quanto riguarda Studio 90 lunedì con Highlights su YouTube. Mentre l'orvietana scivola all'esordio casalingo negato un rigore il Tau mette la freccia per quanto concerne la Serie D. La formazione di Fioruccio è pericolosa in avvio ma non riesce a sfondare. Gli ospiti passano con una rete per tempo come abbiamo visto. Poi ancora le altre partite tra eccellenza sempre Serie D. In eccellenza 2-0 dell'Artico BMG sullo Spoleto. La vittoria per 2-1 del Branca sul Tavernelle. In Serie D quella del Trestina 3-1 a Ponsacco. La CF Foligno 1-1 con il Ponte Valleceppido. 1-1 della Nestor con l'Ellera. 1-0 del Cassione del Lago sul campo del Terni FC. 0-0 Angelana e Lama. Ancora la vittoria del Città di Castello con l'Olimpia Tirus con la rete di Valori per 1-0. 1-1 tra Narnese e Pierantonio sempre in eccellenza. E poi la Serie A2 femminile di volley. Come abbiamo visto è il test positivo per Bartuccini. Forti infissi, contravalli e viscioni protagoniste per quanto riguarda la formazione di coach Giovi. Sempre per il volley Inter Foligno. Il presidente Piumi vogliamo ottenere soddisfazioni di Chiara in vista del prossimo campionato dopo un'estate all'insegna di cambiamenti per la formazione folignate pallavolistica. Il mercato del volley. Zambelli e Orvieto acquista il titolo di D femminile. Questo dunque per quanto riguarda sempre la pallavolo. Moto mondiale al Simoncelli Circuit di Misano. La Ducati cala il Tris. Misano in provincia di Borgo. Panigale scrive proprio il QS. Martin si avvicina. Bagnaia resiste da eroe. MotoGP Pecco si piazza terza nonostante la gamba addolorante. Anche Bezzecchi secondo compie un'impresa con un braccio acciaccato. Questo per quanto riguarda dunque il risultato in pista. Ma c'è stata anche una marea gialla e rossa attorno proprio alla pista del Misano World Circuit. Un grande successo a tutto tondo dunque per questa edizione 2023 del Gran Premio del circuito di Misano della Santa Monica S.P.A. La carica dei 140.000 presenti proprio all'autodromo. Autodromo, vippe, tifosi, la Motor Valley fa sempre festa. Weekend con numeri da record sotto gli occhi di artisti come Cesare Cremonini e sportivi come Weerer e Ghiretti. Oggi test per tutti i team. Qui anche alcune immagini con tanto di F35 che sono volati sopra il circuito di Misano. e ancora altri protagonisti che erano in prima linea per vedere lo spettacolo della MotoGP. Prima della gara Acrobazia degli Aerei e della Marina Militare. Poi anche gli inni a suon di rock proprio per quanto riguarda il Gran Premio di Misano al circuito del Simoncelli in questo 2023. E' tutto dunque per quanto riguarda anche lo sport su questo appuntamento di TG Mattina. Vi ricordo stasera 19.30 l'appuntamento con il nostro TG Sera. A seguire il TG Alto Chiasce poi dalle 20.30 partiremo con Fuori Gioco su TRG. Il talk show del lunedì sera a carattere calcistico della nostra emittente. TG Mattina torna domani sempre dalle ore 7.30 sempre su TRG. E allora non mi resta che augurarvi una buona giornata a tutti voi.